Musica E voi lì? Anche noi! Andiamo insieme! Lei è la botta! Un figlio! Dovremmo ascoltare un po' lì? Sì, sì Dobra, dobra Sì, ti piace? Dobra Sì No, non so farò You're a divorzata È scuola Sì, è scuola Vieni con noi! Sì, abbiamo diversi tipi di pasta. Abbiamo macaroni, spagetti, cucini, tagliatelli, fettuccini, tortellini. Abbiamo anche origantoni, ophardelli, ravioli, peomeni, scuartmane, e guasani. E cosa faremo? E cosa faremo? E cosa faremo? Sì, abbiamo la nostra pasta. Spaghetti, penne, potente, falle, poche, senti i pavini, potente, tagliatelli, guine, bottigoni, cucchiai, cucchiai, piccoli, pezzi, 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 pezzi. Ciao! 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 Ciao!